Ciao a tutti, io sono Alessio e ho appena terminato il primo anno presso la piccola accademia del Teatro Gruppo Popolare. Ho scelto proprio loro perché li ho conosciuti ad una fiera locale e mi hanno ispirato subito fiducia. Mi sono avvicinato al mondo del teatro perché avendo già conosciuto questo mondo da ragazzino durante i tre anni delle scuole medie, ho ritenuto che potesse essere davvero un'ottima idea per la mia crescita personale e professionale, quindi tutte le mie aspettative erano comunque rivolte verso me stesso. In realtà mi sono accorto quasi subito che mi stavo sbagliando, infatti il lavoro che abbiamo fatto non è stato tanto orientato sul singolo ma sul gruppo, sulla costruzione di un vero gruppo affiatato ed è bello constatare che riuscire a fidarsi degli altri e viceversa riuscire ad aiutare ad esprimere tutto il potenziale degli altri tuoi compagni è alla base di grandissime soddisfazioni oltre che di buone amicizie e se volete anche di una comunità che davvero funzioni bene. Un altro aspetto che mi ha colpito molto e che mi è piaciuto particolarmente è questo approccio al lavoro che abbiamo avuto orientato al gioco. Sì, perché io mi sono reso conto che da un po' di tempo non riuscivo più a giocare ed è stato difficile ricominciare e tuttora lo è, infatti ogni volta io mi devo ripetere vai divertiti, sperimenta, gioca e basta rompere sempre le balle Alessio, insomma. Il teatro io lo consiglio a tutti voi perché ogni volta prima di salire sul palco, anche semplicemente davanti ai tuoi compagni, ti si torce lo stomaco. Il respiro ti manca. L'intestino va da sé e comunque non fa mai la cosa giusta. Tutto quello che prima era certo e sicuro nel tuo cervello ad un certo punto è tutto confuso, la saliva ti inonda la bocca e non capisci più niente, no? La voce quando c'è trema ed è un'emozione continua, è pura, forte, fortissima quella che c'è e ti rendi conto che sei completamente uscito dalla tua zona di comfort e sei anche felice di averlo fatto dopo perché è davvero... vivere questa emozione è davvero bello. Quindi diciamo che io consiglio il teatro a tutti perché ti permette di migliorare l'empatia con gli altri, di giocare su te stesso in un ambiente protetto, però con degli insegnanti disponibili e preparati. Che altro dire? Niente, questo è un percorso che quando inizi poi te lo porti dietro per tutta la vita e non smetti più di crescere finché tu saprai ascoltare e giocare. Quindi, cosa aspettate? Andate subito a iscrivervi a teatro. Ciao!